Non sono bella e giovane, ma insomma, come dire, la mia borghietta figura, a volte, la posso fare anche io, esatto, il rombellone. Quindi, signore, è pronto, è l'idea. Strusciatevi, come si dice a Cercina, pulitevi di forza di occhiali e di lenti, le signore sbattete i brani di ciglia, perché quest'anno ho fatto il porto. Signore e signori, direttamente dal più famoso del fiction televisivo, da tutti i profumi che conoscerete, ragazzi, è molto alto, è molto bello, è molto bravo, è molto, signori. Leo Santoro! Grazie! Grazie! Signora, ha ragione, signora, ma è beneficenza, questo c'era e questo mi do appreso. Di pazienza! No, 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 è vero, è facile, è vero, 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 è vero. Così sono, sono vero gratis, cioè, però a molti, come Leo Santoro, non te le conoscono, loro sicuramente le conoscono Leo King. E mi dite, se non hai visto? Andai a vedere, buonasera! Vedi, tanti vi vedo, eh? Lo, mi fa piacere. Ma che io deve essere pieno stasera? Io, come puoi fare...